Questa esperienza promossa da Bracco in merito al concorso che abbina la prestazione scolastica con quella sportiva è un comportamento molto produttivo, un concorso che ha dato grandi risultati perché dimostra che è possibile coniugare lo sport con la scuola. Nella mia carriera di insegnante scolastico ho avuto due studenti che frequentavano il liceo con brillanti voti e hanno giocato nel Milan. La settimana scorsa a Riccione ho trovato uno studente, sempre che frequentava il mio liceo, che adesso studia a Berkeley negli Stati Uniti, con ottimi risultati. Aiuta a stimolare le ragazze giovani, come io ormai non sono più giovane, inizio ad essere vecchia, però può essere da stimolo, hanno bisogno di nuovi stimoli, quello sicuramente, quindi perché no? Aiuta. Penso che sia uno stimolo, è una cosa importante anche perché nello sport la competizione è una cosa che conta moltissimo, quindi con un premio sicuramente non può che incentivare le ragazze, comunque stimolarle per cominciare un percorso sportivo. Credo che ristabilire, soprattutto in questo momento qui nella nazione, dei valori sulla meritocrazia sia importante, per cui far sapere che poi magari si possono mettere i parametri, perché non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo le stesse doti, non tutti abbiamo le stesse talenti, però quello di avere questo premio proprio per incentivare tutti quanti che possono arrivare a un premio credo che sia proprio la regola dello sport, poi sicuramente non deve essere una questione di vita o di morte, ma proprio un'opportunità che lo sport dà di vivere anche dell'esperienza attraverso un percorso formativo, educativo e socializzante che è bene che ci sia proprio dietro a questo percorso anche degli obiettivi finalizzati a un premio come questo. L'età 14-18 anni è un momento crudo di una ragazza che deve pensare o lavorare o studiare, il sport mi va sempre secondo o lo lasciano fare, è un'età anche una crisi di identità, perché io mi ricordo che c'è sempre considerata la maschiaccia, capito? Cioè l'immagine è molto importante, non solo in televisione, anche in riviste, ma anche fare un esempio di ragazze come io, come Josefa, come Valentina, come tutti noi, devono dare proprio questa immagine donna, che siamo femminili, alle grandi, però siamo campinessi, poi collegare tutti e due insieme, io penso che questo è importante per le ragazze, per capire se tu hai questa passione, puoi studiare anche, io ho fatto, io ho fatto una laurea in economia e commercio, allo stesso tempo io allenavo in Inghilterra, e poi collegare tutti e due insieme, ma anche un'immagine molto positiva per le ragazze. È un premio volutamente rivolto alla conciliazione di sport e studio, è un premio che abbiamo voluto bandire, proprio perché le giovani donne devono avere un'occasione in più per impegnarsi nello sport, ma anche nello studio, proprio per crescere come cittadine. Grazie